Leonardo Miscio, direttore sanitario del Policlinicos Unity di Foggia. Il Covid torna a far paura in tutto il paese. Com'è la situazione qui a Foggia, soprattutto com'è la situazione al Policlinico? La situazione è sotto controllo. Abbiamo 18 pazienti ricoverati, più altri 6 in pronto soccorso, stamattina erano 11. Siamo riusciti a fare dei ricoveri e delle dimissioni. È una situazione tranquilla rispetto anche a 1-2 settimane fa. I numeri sostanzialmente sono gli stessi. Cambia la composizione perché diminuiscono le malattie infettive e aumentano nelle altre aree, però la situazione è stabile. Abbiamo riaperto un reparto Covid che in realtà era chiuso e gestiamo questa situazione. Naturalmente siamo hub nella provincia e ci facciamo carico dei ricoveri di alta intensità e questo ci condiziona anche per tutto il resto, ma la situazione è assolutamente tranquilla. Ecco, situazione tranquilla, però i casi aumentano, le infezioni aumentano, ci si è messa anche l'influenza stagionale a dar fastidio un po' a tutto il sistema. Perché tutto ciò? Guardi, intanto questo è un dato atteso perché tutti gli anni, in questo periodo dell'anno, soprattutto subito dopo le feste, ci troviamo di fronte a una recrudescenza di accessi in pronto soccorso e di casi che sono, come dire, da un lato casi legati alle malattie di stagione e il Covid che in qualche modo sta riprendendo piede, ma non nei numeri dei ricoveri. Cioè assistiamo ad un aumento dei casi, ma tutto sommato, diciamo, questo non impatta sui sistemi sanitari, almeno sul polichinico di Foggia. Quello che purtroppo in questo momento ci tiene abbastanza impegnati sono gli accessi in pronto soccorso che si stanno assestando sull'ordine dei 150 accessi al giorno, quindi numeri significativi. È vero che sono soprattutto i bambini ad essere maggiormente colpiti? Sì, abbiamo bambini che però hanno un decorso assolutamente benigno e non hanno nessuna difficoltà. L'età media dei pazienti ricoverati però in questo momento è di 69 anni, con un'eguale distribuzione tra maschi e femmine, per cui, insomma, è confermato quello che abbiamo sempre saputo, sui bambini non ci sono problemi assistenziali. Qual è il consiglio che si sente di dare oggi alla popolazione? Il consiglio è quello che i dispositivi di protezione individuale purtroppo sono necessari e questo deve essere tenuto sempre in considerazione, per cui nei luoghi affollati, nei luoghi in cui non sappiamo se ci possono essere persone affette e che circolano, è opportuno utilizzare sempre la mascherina perché, comunque lo vediamo, anche le malattie stagionali, anche l'influenza, risente in maniera positiva dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La vaccinazione? Assolutamente consigliata, sia la quarta dose per il Covid sia la vaccinazione antinfluenzale.